Buongiorno a tutti, siamo oggi in collegamento con il professor Roberto Maragliano, già docente universitario di pedagogia. Ecco, con Roberto Maragliano parliamo del tema un po' di grande attualità di questi giorni, di queste ore, ed è il tema dei risultati delle prove in balsi. Sapete tutti che su questo si è sviluppato un ampio dibattito, una delle colpe maggiori dei risultati che abbiamo registrato quest'anno viene attribuita alla didattica a distanza, un po' tutti insomma hanno detto questo, in realtà Roberto Maragliano è un po' in controtendenza perché lui fa un'osservazione molto importante e dice ma in realtà guardate che i risultati non buoni del nostro sistema c'erano già prima della pandemia e prima che si iniziasse a fare la didattica a distanza e secondo me scrive Maragliano in un suo recentissimo post pubblicato anche sui social, dice una questione legata alla disposizione proprio gerarchica del nostro sistema scolastico, disposizione gerarchica che è legata anche ad un impianto, cito le sue parole, ottocentesco, aristocratico, centralistico, autoritario. Ecco Maragliano iniziamo proprio di qui ma non ti sembra di essere un po' troppo severo in questo tuo giudizio, sono quattro aggettivi forti, tutti abbastanza negativi, anzi non abbastanza, tutti quanti ampiamente negativi, cosa ne dici? Rispetto a una matrice ottocentesca sono assolutamente coerenti, il problema è che la matrice è ancora operante nella testa non solo di quelli che fanno scuola ma anche nella testa di quelli che guardano a scuola, però devo chiarire quando parlo di questo tipo di impianto faccio riferimento al livello secondario della scuola, perché invece nel livello primario quella dimensione non c'è e non c'è anche questo per ragioni ottocentesche, non c'è perché nell'ottocento nel momento appunto di costituzione della scuola nazionale, della scuola popolare primaria non gliene fregava assolutamente per niente, è una cosa che si demandava ai comuni quando c'era risorse lo si poteva fare e quel che si può fare si fa, ma il vero problema era la formazione della classe dirigente e quindi la scuola secondaria, quindi nell'ottocento ovviamente come fare una scuola secondaria? Cioè prima della rivoluzione scientifica, prima della rivoluzione industriale, è chiaro che soprattutto formazione umanistica, no? E formazione umanistica vuol dire scrittura, vuol dire libro, vuol dire letteratura, vuol dire poi ovviamente tutta in pratica, vuol dire filosofia, vuol dire insomma vuol dire il sapere disinteressato, no? E quindi è normalissimo che questo avvenga secondo le logiche ottocentesche, cioè di una indicazione centrale che venga applicata omogeneamente su un paese che era molto molto eteogeneo. Resta questo impianto mentale. Ma quindi se intuisco il tuo pensiero, tu vuoi dire che il nostro impianto scolastico è ancora molto legato ad una idea disciplinaristica dell'insegnamento, è così? Tu credi che questo sia uno dei temi fondamentali per cui la secondaria non funziona bene? Certo, perché penso che l'impianto disciplinaristico abbia bisogno diciamo di un correttivo, abbia bisogno di come dire di trovare delle forme di dialogo con un mondo esterno che invece imperenne cambiamento. L'idea della disciplina riporta a un meccanismo di fondazione, no? Cioè la disciplina è quella cosa lì, cioè imparata quella cosa lì sai tutto, no? Quindi un sistema chiuso, ben strutturato, ben organizzato, che entra in conflitto invece con un mondo esterno, no? Che è caratterizzato invece da complessità, da dinamicità, da trasformazione continua. Allora, devo fare degli esempi, altrimenti non si capisce bene che cosa intendo. Il letterario è qualcosa di estremamente importante, no? Cioè questo è un elemento di continuità, no? Tra 800 e il presente, no? Ma che cosa si intende per letterario? Per quale ragione un fondamento centrale, no? Dalla formazione letteraria è la ricostruzione analitica e sequenziale della storia. Perché storia della letteratura? Direi di più, perché la categoria fondante della disciplina, delle discipline, soprattutto quelle umanistiche, deve essere il meccanismo storico, la ricostruzione sequenziale. Perché? Non so, si deve, malgrado poi siano cambiati, non ci siano più i programmi, però di fatto Kant si fa al secondo o al massimo all'inizio del terzo anno e non lo si può fare al primo anno. Perché? Diciamo, i presocratici non si potrebbe fare all'ultimo anno, perché tra l'altro forse sarebbero anche più adatti quando uno è un po' più scusa Roberto, qui c'è una cosa curiosa che tu hai toccato indirettamente, forse può essere interessante approfondirla. In effetti alla scuola secondaria la letteratura si studia sotto forma di storia della letteratura, la filosofia sotto forma di storia della filosofia e via di questo fa. Arte, storia dell'arte. Ecco, ma per quale motivo invece non si studia la matematica come storia della matematica o la biologia come storia della biologia? Ritorniamo al discorso iniziale, cioè la matrice ottocentesca, cioè la matrice ottocentesca vuol dire che la persona colta deve avere una cultura desinteressante, deve vestire di bianco, deve portare le scarpe bianche, non si deve sporcare, ecco. Però da quella impianto di metallo, ottocento, diciamo, il mondo è cambiato da quella situazione. C'è stato uno sviluppo appunto delle scarpe colorate, cioè la persona colta è anche una persona che dovrebbe mettere le mani, non nelle cose, e quindi dovrebbe avere una cultura scientifica e tecnica, come per esempio lo sviluppo della scolarizzazione in Germania, tanto per fare un esempio, ha, come dire, portato a incrementare la formazione tecnico-scientifica, riconoscendo un valore di aristocrazia intellettuale al pari di quello umanistico. Invece per noi la formazione tecnico-scientifica non ha lo stesso riconoscimento della formazione umanistica, cioè la formazione umanistica è quella che per tradizione ti consente di avere una visione ampia e di andare da qualunque parte. La formazione tecnico-scientifica è invece considerata come laterale, no? Come limitata. Ora, in un momento come questo, dove da tutte le parti si sostiene che l'unico via per uscire dalla crisi è quella di integrare i sateliti, no? Questo viene un modello che viene anche dagli Stati Uniti, no? Cioè il fatto che la dimensione umanistica deve entrare in dialogo, no? Con la dimensione scientifica e tecnica, ma allora devono avere tutti pari riconoscibilità, pari riconoscibilità sociale, pari riconoscibilità intellettuale, cioè la formazione tecnico-scientifica deve essere di livello, quindi deve avere una forma, deve avere anche una chiave storica, come tu fai notare, mentre la chiave storica è riconosciuta soltanto alla formazione umanistica. Ecco, allora, di nuovo, da qualunque parte noi mettiamo il becco, ritroviamo sempre questa impostazione aristocratica, cioè del sapere disinteressato. Non ci possiamo permettere una formazione totalmente disinteressata. In ogni caso, in ogni caso, una deformazione di questa impostazione ha portato a promuovere una formazione poco interessante. Una delle critiche più forti che in questi giorni abbiamo letto nei social, e non solo nei social, anche in articoli importanti, eccetera, è questa. Ma è certo che i ragazzi non sanno più leggere e scrivere, perché a scuola oramai la grammatica nessuno gliela insegna e questi vengono su senza sapere la differenza fra indicativo e congiuntivo e quindi ecco che gli studenti arrivano poi alla fine del loro percorso scolastico senza avere delle solide basi di grammatica e di sintassi. Questo è il motivo per cui vanno male, e arriviamo le prove in valsi, vanno male anche nelle rilevazioni in valsi. Tu cosa ne pensi di questa idea che a scuola gli studenti vanno male in italiano perché studiano poco la grammatica? Io penso, Reginaldo, sei un sei furbetto, ecco, perché sai, vuoi che io dica che ai nostri tempi, ai nostri tempi si parlava tanto di grammatica viva, un progetto che poi però di fatto è fallito purtroppo, anche per via delle ragioni che ho cercato di introdurre prima, cioè perché è venuto a mancare ossigeno a questo processo, perché di fatto non sono assolutamente dell'idea che facendo più grammatica uno impari a leggere e scrivere, perché il modello di grammatica che tuttora utilizziamo, cioè la grammatica scolastica, è ricalcata appunto su un modello, su una grammatica di una lingua morta, no? E quindi è tipico di un pensiero statico classificatorio che ha nessun rapporto invece col pensiero necessario per produrre la scrittura, soprattutto in una situazione come l'attuale, che è ben diversa da quella di 30 anni fa, in cui fuori dalla scuola i ragazzi scrivono dalla mattina alla sera, con il cellulare ma comunque scrivono, cioè comunicano attraverso il codice scritto, quindi abbiamo un patrimonio enorme di scrittura viva, no? Che aspetta di essere formalizzato, codificato, organizzato, strutturato, dinamizzato concettualmente in modo positivo dalla scuola, quindi altro che grammatica, no? Lì si tratta di importare dentro la scuola questo patrimonio di esperienza per codificarlo, organizzarlo, strutturarlo, normalizzarlo ed elevarlo a livello di consapevolezza, cioè abbiamo un paradosso, no? I ragazzi scrivono dalla mattina alla sera, forché nel periodo in cui stanno a scuola, nelle ore in cui stanno a scuola, no? Quindi c'è un'enorme potenzialità di lavoro che la scuola invece trascura perché considera quell'attività come disorientante. Secondo te come mai c'è questa importante, rilevante, direi, disparità fra i risultati nella scuola primaria e i risultati nella secondaria? Nella scuola primaria tutto sommato rispetto al 2019 non ci sono, non si registrano particolari variazioni, se non qualche lieve spostamento soprattutto sulla matematica che peraltro è anche molto ben localizzato a livello territoriale. Ecco, però il disastro, se lo vogliamo chiamare disastro, comunque il crack più pesante c'è stato sulla secondaria. Perché secondo te la scuola primaria ha tenuto? Ha tenuto perché le scuole sono state chiuse di meno oppure ci sono anche altre ragioni? No, io ritorno sempre alle ragioni di fondo, cioè quelle casatiane, no? Perché è una scuola poco importante, quindi è libera. È una scuola libera di non seguire il curriculum, è libera di non avere un impianto disciplinare troppo rigido, è libera di organizzare il tempo, è libera di ascoltare gli allievi e quindi di avere un rapporto costruttivo, interattivo, dialogico con gli allievi. Invece dalla prima media, come si diceva un tempo, in poi quella libertà va riducendosi fino a essere totalmente eliminata negli ultimi anni della formazione secondaria perché viene totalmente sovrascritta dalla dimensione disciplinare. La dimensione disciplinare vuol dire che c'è un insegnante, un insegnamento che deve sovrascriversi su quello che gli allievi sono, quello che gli allievi sanno, quindi deve cancellare quello che sanno che è sbagliato e deve sovrascriversi. No, è chiaro che data questa impostazione che dal punto di vista didattico vuol dire sta zitto e buono e segui la lezione e che io domani ti interrogo, che poi guarda bene, questa impostazione rescinde completamente dal fatto, sto parlando del prima Covid, dal fatto che comunque il ragazzo se apprende, non apprende dentro la scuola, ma apprende fuori dalla scuola attraverso lo studio del libro di testo da pagina a pagina. Adesso sto esagerando, però diciamo che ci becco il 70-80% delle situazioni scolastiche, in questo modo. Bene, perché poi domani ti interrogo, perché poi domani facciamo il test. Allora, questo tipo di impostazione mi sembra che spiega per quale ragione poi i risultati della secondaria sono così negativi e invece quelli della primaria restano relativamente positivi, anche perché la primaria continua a essere, per le ragioni istituzionali che sappiamo, una scuola aperta al mondo esterno, aperta alla famiglia. E infatti anche nel presentare le prove in basi cosa è stato detto, no? È stato detto, tra l'altro insomma c'è il video in YouTube, sarebbe bene che i grandi giornalisti che scrivono certe stupidaggini, almeno quel video se lo vedessero. Bene, cosa si è detto? Si è parlato di scuola primaria come scuola da casa. Una scuola che si fa, o la fai a scuola oppure quando la scuola è chiusa la fai comunque da casa, è scuola da casa, non è la DAD, è la scuola da casa. Grazie.